Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi, prodotta dalla Diamond Select nel 2017 per la linea Marvel Gallery, abbiamo qui con noi questa fantastica statua in PVC di Deadpool. A tra poco ragazzi! Ok amici, prima di iniziare la recensione vi voglio ricordare velocemente che nel canale è attivo un fantastico giveaway, vi lascio qui la scheda e nell'info box anche il link che vi riporta direttamente al video del giveaway dove potete trovare tutte le info necessarie per partecipare. Vi ricordo che questo giveaway è il giveaway più bello che abbia mai organizzato nel canale, ricco veramente di premi, si concluderà al raggiungimento dei 1000 iscritti, non siamo così lontani quindi ragazzi mi raccomando non dimenticate di darci un'occhiata. Ma veniamo a noi amici, allora qui oggi abbiamo questa statua in PVC di Deadpool appena presa, come vedete ha ancora i sigilli quindi non l'ho neanche aperta ancora. Vediamo velocemente la scatola, come vedete è realizzata abbastanza semplice, non è che sia un gran che... insomma questa scatola a livello di... voglio dire di dettagli, di cose... Vediamo lateralmente che è tutta trasparente quindi tutte queste parti in vetrina che ci permettono di vedere la nostra statua all'interno. A fatica direi perché qui è pieno di riflessi, come vedete la luce riflette molto quindi io direi di passare immediatamente a tirarla fuori. Prima vi faccio vedere un attimino il retro che è forse la parte più... più colorata, più vivace dove vediamo la nostra statua con una piccola biografia del nostro personaggio e qui ci viene riportato che è 9 pollici quindi stiamo compresa la base intorno ai 30 cm d'altezza quindi decisamente alta. Ma bando alle ciance ragazzi, passiamo ad aprire questa scatola e noi ci vediamo tra un... Ed eccoci qua ragazzi con il nostro Deadpool fuori dalla confezione, devo dire sono rimasto veramente sballordito ragazzi, ha dei dettagli fantastici. Messa vicino a statue di ben più alto valore, credo non abbia nulla da invidiargli, guardate che meraviglia. Una cosa che non mi aspettavo sinceramente e pensavo di trovare era sporcatura di plastica, nel senso che essendo fatta in PVC mi aspettavo di vedere qualche taglio magari messo malamente da qualche parte proprio delle plastiche. Invece ragazzi ve l'avvicino, non c'è un benché minimo difetto in merito a ciò che ho appena detto. Ha una pulizia incredibile, dettagli veramente fantastici, lo scalp è eccezionale, il painting è altrettanto. Io penso che la Diamond Select abbia fatto veramente un lavoro eccezionale su questa linea Marvel Gallery e devo dire ad un prezzo anche molto accessibile, perché parliamo di circa 40 euro, con 40 euro vi portate a casa questa meraviglia. Guardate quanti dettagli ragazzi messi al posto giusto, guardate le spade che sono le uniche cose che vengono separate ovviamente dal nostro Deadpool. Ovviamente ragazzi parliamo di plastica, parliamo di accessori che sono molto simili a quelle che troviamo in un action figure dello stesso prezzo. Quindi come vedete è plastica, ma comunque è realizzata molto molto bene, vedete? Colorazione e scalte, veramente ben fatta. Queste vanno in questo modo, non le possiamo infoderare negli appositi foderi perché sono chiusi, ma non avrebbe senso anche perché la posa è questa e prevede appunto l'impugnatura delle spade. Carino anche questo effetto qui di questa sorta di fiamme che avvolge parte delle gambe del nostro Deadpool, che si stacca da questa basetta. Anche la basetta è veramente molto carina, riprende un po' lo stile di queste basi, di queste statue, e molto più costose, tutte arzicocolate qui con tutti questi dettagli. Qui vediamo questa sorta di gemme qui incastonate, veramente veramente bella. Sotto ovviamente vediamo che si tratta di tutta plastica. Che a dire ragazzi, io più di farvela vedere, più di continuare a girarvela, non posso fare, non posso dire perché vedete da voi quanti dettagli veramente eccezionali ci sono in questo Deadpool. Il tutto, ripeto, è molto pulito, molto preciso, molto curato. Come dicevo, questa nostra statua misura 9 pollici, quindi stiamo intorno ai 30 centimetri dalla base. Sì, beh, ecco, stiamo sui 26 centimetri circa, quindi è anche molto alta. Non me l'aspettavo, diciamo così pesantuccia, via. Per essere in PVC ha anche un buon peso, quindi non è così tanto leggera come mi aspettavo. Ecco qui, questo è il nostro Deadpool, ragazzi. Bene amici, si chiude qui questa recensione. Io spero sia stata di vostro interesse e ditemi cosa ne pensate di questa statua di Deadpool, se ce l'avete. Io trovo che sia veramente, veramente fantastico anche il rapporto qualità-prezzo. È meravigliosa, sono molto contento di averla acquistata. Io con questo, ragazzi, vi saluto, vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e da Deadpool. Ciao a tutti.